ciao allora oggi vi voglio parlare di questo fondotinta è il pur light del libro che dice di essere un fondotinta luminoso a tenuta ed estrema effetto seconda pelle allora intanto io dico che questo fondotinta è il mio fondotinta e sicuramente lo ricompro perché mi è piaciuto tantissimo è un 30 ml ed viene sui 15 euro a prezzo pieno sto cercando il colore che è il 300 beige medium e ora vi mostro lo swatch allora cosa dire di questo fondotinta intanto che ha la pompetta dosatrice quindi è praticissimo comunque si svita anche perché io sono arrivato davvero in fondo è fantastico sulla mia pelle mista perché si stende bene si sfuma bene si fissa certo ci vuole la cipria cioè io la metto sempre la cipria però non mi unge la pelle non mi fa diventare lucida la zona t e sia tutto inverno che comunque in primavera non mi ha mai dato problemi di lucidità dura tutto il giorno non si sposta non si sposta non crea macchie non mi secca la pelle ma la mia è mista quindi quasi impossibile ho sentito di persone a cui seccava troppo la pelle ma forse è perfetto infatti per la pelle mista o grassa e io davvero l'ho trovato validissimo dura tranquillamente tutto il giorno l'ho detto con la cipria io se lo applico la mattina poi nel pomeriggio ritocco un attimo la cipria ma lui resta comunque sempre fisso si strucca bene non è come si dice non occlude i pori è molto leggero è impalpabile ha colori che si accordano perfettamente con il tipo di carnagione e direi che ho detto tutto perché è super super valido questo sicuramente me ne sentite riparlare perché cercherò dei dupe sicuramente ma questo lo ricompro sicuramente fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate come sempre spero vi sia stata utile e se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e mettete anche la campanella così non perdete le prossime accensioni e alla prossima ciao